È stato Eschilo, il cane delle fiamme gialle, in azione insieme agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza a fiutare e rinvenire una confezione di cellofan con all'interno poco più di un grammo di hashish. Questo è il risultato dei controlli eseguiti ieri al liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca dalla Polizia di Stato. Controlli che si inquadrano nell'ambito dell'operazione denominata Scuole Sicure, disposta su tutto il territorio agrigentino dal questore Maurizio Auriemma. Ieri dunque l'attività finalizzata a prevenire e reprimere il fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefacenti tra i banchi di scuola o in prossimità degli edifici scolastici ha fatto tappa nella città di Sciacca e verosimilmente si estenderà a tutti gli istituti superiori della città. Un'operazione antidroga già eseguita presso le scuole di istruzione secondaria superiore dei comuni di Agrigento, Licata, Palma di Montechiaro, Canicattì e Porto Empedocle. Dei veri e propri blitz antidroga con ispezioni delle forze di polizia unitamente alle unità cinofile della Guardia di Finanza sia nei piazzali esterni alle scuole sia all'interno degli edifici scolastici. E non sono mancati i casi di rimmenimento e successivo sequestro di diversi spinelli e contestuale segnalazione di alcuni studenti alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti. Un'iniziativa molto apprezzata dall'ufficio scolastico provinciale che insieme alla Questura accanto ai controlli ha deciso di avviare anche un percorso educativo attraverso il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, delle scuole e delle famiglie per prevenire e contrastare un fenomeno, quello del consumo di stupefacenti che resta assai diffuso tra i giovani.